Good evening ladies and Chamberlain, oggi situazione un po' diversa da solito, niente gameplay, niente live, niente di niente, a proposito, ogni tanto la domanda del martedì e il venerdì, buttate un occhio qui su YouTube e lì su Twitch, poi qualcosa lo trovate sempre, oggi proviamo qualcosa di nuovo, oggi proviamo il Reaper React, cosa è il Reaper React? Molto semplicemente io che mi accordo alla moda del momento, il video reaction, con me, Faya Channel, una collega emergente, la sottoporrò un tour de force oggi di React, non uno, non due, non tre, ma quattro video, ve li raccomando, lo dico in anticipo, e quindi direi che possiamo subito cominciare, oggi la metto proprio alla prova con i OMG moments della WWE, del wrestling, Lei non ne ha mai visto niente, quindi prepariamoci perché sarà una roba che non vi dico, che cosa sai tu del wrestling? Niente, bene, è un punto per me per cominciare, quindi poi, è qualcosa, puoi cominciare già a cliccare sul video, un po' alto il volume, capito, ok non è ancora iniziato quindi non posso saperlo, però apre, non è ancora iniziato però, anche se voi sapere se ne vede ancora iniziato, leggermente, Ma che cazzo va? Se non lo stia la posizione? Le si hanno avuto tutte? Oddio Oddio Ah, ma non si spacca, tipo la stiera Spaccato tutto Oddio, animali Oddio, no, no, no È morto È completamente morto Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Vabbè, vabbè Oddio Che male Che malissimo Eh, cioè Non si rompe le ossa, cioè Che male, è spacca tutto Sì, vabbè Sono fatti di carta pesta questi tavolini Sì, vabbè Adormentato No, plot twist Oh, vabbè, ho aspettato Oddio Oddio mio Oddio, riesce a sempre È morto Che male Che male Ma si storpiano Cioè, si sfacciano Ma non si picchiavano e basta in questo sport No Oddio 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 Volo! Non fa male! Cioè, vabbè, si suicidano in pratica. Ahhhh, di petto, di petto, che male! Sono un po' violenti, molto scontone. Che male, che male! E questo cosa faccio? Oh no! Sono un po' addosso, guardando. Oddio mio Ma uno ci lascia le penne così, muore proprio No, si si Ridendo poi, felici Oddio mio Alla gente piace questa cosa, è poco problema Si è fatta un po' male Ma li mettono apposta ai tavoli per farli spaccare No, 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 no Che dolore, Dio mio Mi fa male Che violenza Non c'è Non c'è Non c'è Rotto, rotto tutto Il ring è spaccato Oh, no Oh, no Che testata Oh, no Che dolore Che dolore Che dolore Morti È un volo Ma perché Non c'è Vabbè L'ha fatto svenire Oddio questo Ok Ok, non me l'ho aspettato così Svenuto No 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 Che male Ti sei fatto male Vabbè Vabbè Mi mettono apposta per forza Sennò Non c'è No 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 Che male Che male Fa male Il collo Non se lo spezza Non, non, non Ti prego Eh Vabbè Vabbè Crudemi proprio Vabbè 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 Questo è almeno peggio degli altri Dai No Meggio un sino questo Sì, infatti Bene Ok Quindi la tua prima impressione qual è? Ma perché? Cioè Si storpiano Si rompono le ossa Io pensavo che si picchessero e basta Invece no Si lanciano Questi erano proprio i momenti più evadati No ma alcuni erano anche ok Invece il resto proprio Cioè dalle scale in alto Quel fuoco Cioè Io pensavo che si picchessero e basta Poi vedo queste cose e rimango tipo Ma davvero Non si rompono qualche osso Qualche volta capita Eh infatti Se no Siamo un po' strano Ok Questi erano gli OMG moments della WWE È rimasta abbastanza scioccata Come abbiamo potuto vedere prima Sì Purtroppo sì Ho sentito tanti dolori Non credo che lo guarderai mai nella tua vita probabilmente Non credo c'è neanche quella possibilità Allora Direi che quindi abbiamo finito Ringraziamo Ringraziamo Grazie a te Iscrivetevi anche al suo di canale Anzi Già che ci siete Se volete Se volete Se volete aiutare in una maniera anche più concreta C'è il Kofi C'è il Patreon Veli mettere in descrizione Grazie E voi Per aiutare me Non dimenticatevi Di metterevi in calcio Commentare e condividere Ma soprattutto iscrivetevi Fate bene iscrivetevi 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 Fate bene E se non vi è piaciuta questa roba Lo sapete Non sono sicuro Vi volete riconoscere